Gli agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 21 anni originario del Ghana senza fissa dimora e già conosciuto alle forze di polizia per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Il 21enne infatti ha lanciato una bomboletta e del liquido contro i poliziotti intervenuti per la segnalazione di un uomo molesto nei pressi di un supermercato sito in via Algeri. I numerosi tentativi di ricondurre il giovane alla calma non hanno sortito gli effetti sperati e gli agenti hanno faticato non poco a bloccarlo. Per evitare che l'evento degenerasse, utilizzando tutte le linee guida impartite dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, gli agenti hanno utilizzato il dispositivo Taser e hanno immobilizzato il ragazzo in sicurezza.